A 50 anni dalla nascita all'Ateneo più grande d'Abruzzo, l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara riflette sul suo passato guardando al futuro. Certo, nessuno, mezzo secolo fa, poteva prevedere una crescita così importante dell'Università che oggi possiamo definire uno dei fulcri dell'area metropolitana abruzzese. Il rettore dell'Ateneo D'Annunzio, Carmine Di Ilio, ha raccontato gli inizi travagliati dell'Università ma tracciandone lo sviluppo, ha anche indicato le linee guida del suo futuro fatto di una maggiore collaborazione con le altre università. Ieri al compleanno dell'Università D'Annunzio hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e i due rettori degli Atenei abruzzesi Luciano D'Amico e Paola Inverardi. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni, primi tra tutti i sindaci dei comuni di Chieti, sede del campus universitario e Pescara, dove si trovano le facoltà di architettura ed economia. Io che sono più giovane dell'Università e ho studiato altrove, peraltro comunque ho visto crescere questo luogo e penso che sia uno stimolo sempre migliore per fare meglio. Però poi non bisogna nascondersi dietro un dito e senza avere furia e conoclasta, credo sia opportuno, l'ho detto nel mio breve intervento, una breve riflessione sul sistema universitario. Il sistema universitario italiano produce numeri significativi in crescita, parlo dei laureati, però c'è anche un riflesso che non si può tacere, che noi siamo il paese che più di tutti produce NIT, è un acronimo inglese che indica giovani che non lavorano, non studiano e non si formano. Allora l'invito, in un luogo come questo, naturalmente a puntare sulla formazione e sulla conoscenza, che resta, credo, lo strumento per inalzare se stessi e per inalzare anche una comunità.